Oh bello ragazzi, sono Marco Feodale, sono un liutista, un chitarraio e questo a fare qua è un PV Viper, praticamente un amplificatore digitale, alternativa decente del Line 6 Spider. Ma proviamo un pochino come suona e poi ne parliamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Insomma, hai sentito come suona e suona davvero bene? Questo è un piccolo muletto da studio, non da live perché non abbia il volume, perché qui stiamo con il Master 1, tu lo vedi qui da quest'altro telefono qui davanti? Perché semplicemente ha un piccolo difetto, ovvero non ha la possibilità di utilizzare nessun tipo di pedaliera. Quindi, o si cambiano le preset da qui, oppure ti attacchi a cazzo. Detta poco semplice, semplice, semplice. Ovviamente non è detto che non si possa usare, perché mi è capitato in molti casi di fare dei live in cui non ho usato una volta il pulito, quindi volendo mantenersi su, per esempio, un suono del genere, ecco. Quindi è una roba mezza crancettosa. Ora, qui purtroppo c'è un noise gate che non ricordo come si toglie, ma sono sicuro che si può togliere. Devo un attimo vedere il manuale, è un po' più complicato di quello che può essere un Line 6 Spider, però questo qui, lavorando con il volume, quindi abbassando il volume della chitarra, pulisce abbastanza bene. Non benissimo, si sentono un pochino di artefatti probabilmente dovuti allo smart gate, ma volendo tornare su un suono, appunto, un po' più distorto... E poi posso lavorare con, appunto, il guadagno dei piccati. E questo è un perfetto suono da... Ecco, hard rock, heavy metal, per esempio, posso fare roba del genere. Anche punk, cose così, lavorano tranquillamente. Piccolo, semplice, diretto, veloce. Ma può anche dare tanto nel punto di vista metal. Ora, questo è un suono un po' più... Questo è un 6505. Questa è un suono un po' più forte. Insomma, è un amplificatore che lavora davvero, davvero bene. Ovviamente ha, come ho detto, dei difetti. Oltre alla possibilità di non poter usare la pedaliera, questo, siccome è un amplificatore usato, dopo un po' le manopole si rovinano. Ovvero, queste qui, a parte questo qui finale, sono tutti potenziometri a scorrimento infinito. Ovvero, io posso continuare a girare all'infinito questo potenziometro. Quindi non conta la posizione in cui è, ma conta la posizione in cui il software digitale, ovviamente, questo è tutto un computer qua dentro, pensa che il potenziometro sia. Siccome questo qua purtroppo si è rovinato, non solo questo, ma vari altri di questi sono molto rovinati, a volte non prende bene i parametri. E questo potrebbe essere un problema quando si cerca di fare un suono. Ma, siccome questo è comunque un amplificatore da studio, non ci vedo poi troppo un problema. Ora, vediamo un pochino le varie feature. Ha vari amplificatori, in particolare ha due tipi di amplificatori. Quelli green, che quindi sono un po' più puliti, tra virgolette. Non in questo caso. E quelli red, che sono quelli distorti, adatto guadagno. Nel caso degli amplificatori, questi qui, come il 65005, quelli già con alta distorzione, semplicemente cambia un pochino il volume. Però, andando già su un twin, cambia proprio il suono, per esempio il mio preferito è il plexiglia. Cioè, si passa da un suono ad alto a basso guadagno come niente. Ma anche, per esempio, sul... Che è questo? Il GSM800, più o meno. Ora non mi sto preoccupando troppo dei volumi, perché chiaramente ci vorrebbe troppo per mettersi qui a ricontrollare ogni volta, a regolare tutti i volumi. Quindi, li regolerò poi in posto nella registrazione, metterò un... Li normalizzano tutti allo stesso volume. Ma sappiate che io qui, quando cambio, tra pulito e distorto, c'è una bella differenza di volume, perché la preset è regolata in maniera diversa. Ma ovviamente ci sono i vari effetti. Qui, potete vedere, sono da un Tube Screamer, fino a vari Flanger, Octaver, eccetera. Oppure Bypass. Prendiamo, per esempio, qui nel plexiglia pulito che ho. Volendolo boostare, posso andare sul Tube Screamer che ho già impostato, ovviamente. Ora, ti faccio notare una cosa interessante. Questa è una simulazione carina. Guarda una cosa. Ora io ho il reverb, non determina la quantità. Determinata la lunghezza. Se adesso io diminuisco il guadagno del plexi, e magari metto il volume, il riverbero diventa più corto. Riportiamo il guadagno al massimo. Hai fatto caso che il riverbero aumenta di potenza, di volume? Guarda quest'altra cosa. Se io raggiungo un Tube Screamer davanti... Diventa ancora più grosso, con ancora più volume. Ma perché questa cosa? Perché semplicemente il plexi non ha un loop effetti. Non ce l'ha. Almeno quelli vecchi, quelli moderni sì. Ma il vecchio plexi non ha il loop effetti. Quindi se vuoi mettere un riverbero, perché mi sembra che lui di base non ce l'abbia, lo devi mettere sul preamplificatore. Quindi se aumenti il guadagno, aumenti il volume del riverbero. E quindi se metti un preamp, tipo un booster, come un Tube Screamer, il riverbero aumenta di volume, perché distorce anche il riverbero. E' una cazzatina. E lo fa in maniera veramente, veramente minima. Però è quella cosa che ti fa dire ok, questa roba è stata pensata bene. Veramente bene. Perché questo non lo fa su altri amplificatori. Se io vado sul plexi distorto e aumento o diminuisco il guadagno. Quindi questo è il plexi modificato. Non lo fa questa cosa. Mentre sul canale pulito, sì. E' eccezionale. E' una cosa che mi piace tantissimo di questo modello di amplificatori. Cosa che molti altri simulatori di questa fascia di prezzo non hanno. Ora, ovviamente non è perfetto. I suoni sono abbastanza semplici, niente di particolare. Però sono abbastanza carini. Per esempio, se vogliamo andare fra tutti gli amplificatori partendo dal triple X della P. Sono tutti abbastanza diversi. Ora su uno di questi c'è un flanger, quindi non facciamoci troppo caso. Ma anche sui puliti, stessa cosa. Volendo mettere un volume decente, quindi un guadagno da pulito su questi amplificatori. Diventano effettivamente degli amplificatori crunch. Per esempio, per esempio, c'era il rectifier, che non era affatto male come crancettone. Però perdono molto di volume rispetto alla loro controparte distorta. Ovviamente, essendoci una simulazione del diesel VH4, perché non provare il suono che, insomma, uno dovrebbe fare col diesel? rispetto alla prossima. Devo dire che questo amplificatore non fa assolutamente un buon suono Pantera, proprio per niente, però proviamo con un altro, eccolo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Devo essere del tutto onesto, ho sentito dei suoni simil Pantera con amplificatori diversi che lavorano e con un suono molto più convincente, magari ci facciamo un video al riguardo, proprio separato, comunque io penso di aver parlato abbastanza su questo piccolo amplificatore e ti dico una cosa, se lo trovi usato a una quarantina d'euro questo è un ottimo affare, perché ho la possibilità di mettere 12 preset diversi, ha un sacco di effetti fighi che non mi sono messo qui a esplorare troppo perché non li uso particolarmente, io a parte un pochino di tremolo ecco, non è che ne usi particolarmente gli effetti, quindi è una roba del... Dov'è il tremolo? A parte questo, un pochino di chorus ogni tanto, io non è che uso molti effetti, quindi non mi sono messo a esplorare particolarmente. Grazie a tutti! Carino, simpatico, ma come ho detto, non uso molti effetti. Vabbè, questo è da fare con questo. Sono carini però non li vedo utilizzabili in maniera particolare, a parte quel phaser ogni tanto, un pochino di chorus e il delay integrato nell'amplificatore, non è che sia granché. Gli effetti comunque si regolano premendo la manopola degli effetti e ci permette di regolare il quantitativo di riverbero, il livello e il tempo del delay, il feedback del delay, il tempo si regola tramite il tap tempo che è qui, e per il resto questi sono i due parametri dell'effetto selezionato qui. Possono essere volume guadagno, oppure ottava o robe del genere. Quindi, detto ciò, io direi che questo video ha durato già abbastanza, ho parlato abbastanza per questo coso, ora devo registrare quello su Line 6, perché io ve lo farò uscire prima, ma quello l'ho registrato dopo. Quindi noi ci vediamo la prossima volta, bella! Ciao!